Questo è il gattino! Sì, Masha Tona, lo so, lo so, lo so, lo so Sei una buona ragazza, una buona ragazza Come ti piace il caffè? Amaro o dolce? Dolce Com'è la vita di amaro? Sembra gigante, invece in realtà è una maltesina Quanto peserà? 5 kg Masha? Ciao, Masha Oh, ma bello il suo gatto Mi fa fa lo gatto Masha Opla Riuscire a fare qualcuno? Masha C'è una pig C'è una pig Ma viene troppo grande, capito? Ciao! Pig mea, piga, piga Iiii Questa è una maltesina 5-6 kg Quando c'è? 9 mesi adesso? Quando c'è? 9 mesi Sì, questa piga Masha Cagnari belle Sì, sì.